Nasce il Comitato per l'alta velocità nel Vallo di Diano. Il Consiglio generale della comunità montana Vallo di Diano, presieduta da Francesco Cavallone, all'unanimità dei presenti, ha approvato una nuova delibera di consiglio che, alle voci già espresse in una precedente delibera, viene anche richiesta la realizzazione della stazione in una posizione baricentrica che tenga conto, come emerge dalla lettura dello stesso presidente Cavallone, della rete viaria e dei collegamenti tra territori e sistemi. Alla delibera, su proposta del sindaco di Sanza Vittorio Esposito, è stata inoltre aggiunta un'ulteriore voce per la costituzione di un comitato che sia in grado di rappresentare e difendere il territorio valdianese nelle interlocuzioni con la regione Campania, RFI ed ogni altro organo o ente coinvolto nella realizzazione del progetto dell'alta velocità. Una richiesta formulata da Esposito in conseguenza delle notizie che arrivano dalla Basilicata e che, seppur ritenute dallo stesso Esposito non attendibili in ogni sua parte, devono comunque preoccupare. Da qui la richiesta, già anticipata alcune settimane fa, ora formalizzata in Consiglio Generale della Comunità Montana, di costituire un comitato a difesa dell'alta velocità nel Vallo di Diano, che, come richiamato dal presidente Cavallone, sarà costituito non solo da sindaci e rappresentanti del territorio, ma anche dalle associazioni interessate alla realizzazione dell'infrastruttura. La delibera è stata approvata all'unanimità.